questo video è realizzato in collaborazione con il sito di oroscopo multimediale che offre previsioni accurate e personalizzate scoprite il vostro oroscopo del giorno e molto altro ancora visitando il link in descrizione endless love cara sedda anticipazioni da lunedì 5 a mercoledì 7 agosto 2024 a casa cos giolo mentre nihan sta chiedendo ad emir se il figlio di zeynep è suo arriva osan furioso e accusa sua sorella di aver calognato zeynep emir cerca di calmare osan e lo porta via dalla stanza di nihan nel frattempo a casa di kemal zeynep cerca di convincere suo fratello a farla tornare da osan perché ha bisogno di lei ma kemal non sembra d'accordo anche asu interviene dicendo che la casa di osan è pericolosa per zeynep ma che non possono nemmeno separarla da suo marito emir parla con osan ancora furioso con sua sorella accusandola di fare del male alla famiglia a causa di kemal e dicendo che non la riconosce più emir suggerisce a osan di andare a riprendere zeynep e di costruirsi una vita lontano da tutti loro solo loro due osan però risponde che non può andarsene finché è sotto processo ma ha un'altra idea decide così di tornare a casa di kemal e chiede a zeynep di fare un test di paternità per dimostrare a tutti che si sbagliano zeynep turbata dalla richiesta rifiuta interviene anche kemal affermando che sua sorella resterà lì e che non possono infangare il suo onore accettando un test di paternità kemal dice a osan che può restare anche lui ma osan si rifiuta dicendo che non accetterebbe mai di stare a casa di colui che lo ha denunciato e se ne va sconvolto subito dopo kemal chiede ad asu di rimanere con zeynep mentre lui sale in macchina e si allontana appena kemal se ne va tu fan chiama asu e la informa di aver trovato suo zio acchi che si trova in una casa vicino a quella di sua madre mujgan asu vuole immediatamente andare da suo zio ma tu fan le dice di pazientare asu però lo informa che emir quella sera stava per ucciderla e che non ha più tempo per aspettare intanto kemal arriva al molo e ripensando a ciò che nyan ha detto su zeynep lancia con rabbia la pistola in acqua in quel momento arriva leila preoccupata per lui e kemal le dice che non può credere che nyan abbia calunniato sua sorella è come se fosse diventata un'altra persona e lui è molto arrabbiato poi aggiunge che lei la ragione e deve aprire il suo cuore ad altre strade emir nel suo studio di casa continua a pensare ad asu decide quindi di chiamare tu fan e gli ordina di seguire asu costantemente avvertendolo che se non gli riferirà ogni dettaglio penserà che sta dalla parte di sua sorella tu fan finge sorpresa alla parola sorella ed emir gli conferma che asu è davvero sua sorella terminata la chiamata arriva galip nello studio di emir e gli chiede se ha trovato suo fratello ma emir nega e se ne va tu fan è in macchina con asu la quale dice che emir non ha più paura e che cercherà di ucciderla di nuovo per questo motivo devono assolutamente recuperare le cavette usb l'unica arma che hanno contro emir tu fan però le chiede di pazientare ancora e le mostra un monitor con le immagini di acchi confessandole che lo sta sorvegliando tramite telecamere nascoste nella sua abitazione anche che mal si trova in auto è al telefono con zehir al quale dice che devono trovare acchi perché teme che sia in pericolo la mattina seguente niam va da sua zia leila che la rimprovera per il suo comportamento con kemal leila le dice che sta distruggendo l'amore di kemal e che sta arrivando a farsi odiare da lui le suggerisce che avrebbe dovuto dirgli la verità invece di essere schiacciata dai segreti e le consiglia di parlare con lui e fargli sapere che non ha diffamato sua sorella zeynep per non farsi odiare dato che lo sta ferendo profondamente niam però è convinta che qualunque cosa faccia kemal non arriverà mai ad odiarla ma leila non è d'accordo zeynep lontana da casa e visibilmente agitata si incontra con emir e gli comunica che osam vuole fare un test di paternità emir le consiglia di procedere con il test e di informarlo una volta fatto promettendo che lui si occuperà di tutto in modo che il bambino risulterà essere di osan nel frattempo asu è al telefono con tu fan che le dice che si occuperà lui di acchi ma asu non vuole sentir ragioni e lascia l'ufficio per raggiungerlo viene però fermata da kemal preoccupato che non vuole lasciarla sola asu gli dice di non preoccuparsi di aver finito di lavorare e di voler vivere senza paura kemal sospettoso scopre dalla segretaria che asu non ha finito effettivamente di lavorare e chiama zehir chiedendogli di seguirla perché potrebbe essere in pericolo niam ancora a casa di leila chiama kemal e gli chiede di vedersi al pozzo per parlare di una cosa importante zeynep e osan sono insieme in ospedale per fare il test di paternità e il medico comunica loro che i risultati arriveranno in una decina di giorni zeynep preoccupata propone a osan di fuggire insieme perché è stanca di tutto ma osan le dice che essendo sotto processo non può lasciare il paese tuttavia zeynep insiste e propone di chiedere aiuto a emir e osan convinto chiama emir e gli chiede di raggiungerli kemal arriva al pozzo per incontrare niamma ripensando a tutte le volte che lei lo ha abbandonato decide di non avvicinarsi e torna indietro per raggiungere zehir che sta ancora seguendo asu a chi torna a casa con la spesa e trova asu ad aspettarlo nel salotto a chi le dice che non le rivelerà nulla di più di ciò che ha scritto nella lettera ma asu risponde che non può liberarsi di lei con una lettera e lo accusa di averla tradita vendendola a emir e di non amarla a chi nega ma asu ribatte che lui è più crudele di emir a questo punto a chi le dice che emir la ucciderà ma asu confessa di aver stretto un accordo con emir per salvarsi e ha bisogno dei filmati a chi però le dice di non averli con sé in quel momento bussa alla porta kemal e a chi gli apre kemal sorpreso di vederlo dice che era preoccupato per lui e a chi lo invita a entrare dicendo che deve parlargli kemal preoccupato gli chiede da chi si sta nascondendo e chi sono i suoi nemici a chi spiega che è andato via per proteggerli da quei nemici di cui non rivelerà mai le identità poi prende la mano di asu e la posa su quella di kemal dicendo che la sua ultima volontà è che kemal si occupi di asu e sia felice con lei gli ordina di smettere di seguirlo e gli chiede di sposare asu che è visibilmente imbarazzata quindi a chi annuncia che se ne andrà e abbraccia kemal poi abbraccia asu dicendole all'orecchio che è l'ultimo favore che le fa quindi si congeda quando anche asu e kemal se ne vanno tu fan si intrufola in casa di acchi e ricordando di aver visto la combinazione nei filmati delle telecamere apre una cassaforte e trova una tessera di un hotel avvisa asu che è in auto con kemal dicendole che presto le porterà i filmati emir raggiunge zeynep e osan in un locale e osan gli chiede aiuto per fuggire dal paese con sua moglie zeynep ma emir gli dice che non è una buona idea osan insiste dicendo che hanno fatto un test di paternità e che emir avrà i risultati dopo la loro partenza salvando l'onore di zeynep emir fa promettere a osan di non dire nulla a nihan e poi accetta di aiutarli si fa sera e mentre zeynep sta sistemando i vestiti a casa di kemal nota nell'armadio due borse contenenti abiti per bambini gli stessi che kemal aveva comprato per nihan e la loro futura figlia proprio in quel momento arriva kemal che prende le borse ed esce fuori per buttarle nella spazzatura zeynep lo segue e gli dice che nihan non merita il suo amore dopo averlo fatto soffrire così tanto e dopo aver diffamato anche lei aggiungendo che nihan non gli darà mai un figlio e quindi di rassegnarsi e di non farsi più del male kemal non volendo ascoltare zeynep la interrompe bruscamente zeynep allora gli confessa di aver fatto un test di paternità per fermare le calugne ma kemal le risponde che non avrebbe dovuto farlo per rispetto di se stessa e che non importa ciò che dicono gli altri e la avverte che se non si allontanerà dalla famiglia di osan perderà un fratello e anche lui d'ora in poi starà lontano da nihan poi con l'anello di fidanzamento per nihan in mano kemal si reca al pozzo e scava una piccola buca nella terra mentre ripensa con profondo dolore ai momenti felici passati con nihan poi con le lacrime agli occhi sotterra l'anello emir è a casa di asu e lui le confessa che da piccolo era geloso dei bambini che avevano un fratello qualcuno con cui giocare e che non ti lascia mai solo ma che può anche trasformarsi nel tuo più grande nemico come è successo a loro due in quel momento kemal suona al campanello così emir si nasconde e asu apre la porta kemal preoccupato che asu sia sola viene rassicurato da lei che gli dice che lui e sua sorella zeine hanno bisogno di stare soli per un po kemal si siede di fronte a lei e le dice che non le promette niente poiché il suo cuore è occupato da nihan e lei rimarrà lì fino al suo ultimo respiro con dolore e molte ferite asu gli chiede perché le stia dicendo tutto questo e lui risponde che vuole che lei sappia tutta la verità aggiunge che è consapevole che non potrà mai stare con nihan e forse anche lui può cambiare e lasciarsi il passato alle spalle così le chiede di sposarlo asu incredula e felice accetta immediatamente ma kemal avverte che non sarà facile asu al settimo cielo promette che guariranno le loro ferite insieme e che lo amerà molto anche se dovranno vivere nell'infelicità purché siano insieme emir che ha ascoltato tutto è visibilmente soddisfatto yasemin accompagna nihan a casa la quale è distrutta convinta che kemal la odi ma yasemin cerca di rassicurarla dicendo che comunque andranno le cose kemal la amerà sempre quando yasemin se ne va nihan incontra suo fratello osan all'ingresso di casa e gli chiede cosa ha fatto di male per farsi odiare così tanto anche da lui osan risponde che è arrabbiato ma non la odia e lei gli chiede di non farla soffrire inutilmente intanto kemal chiede ad asu di andare a casa con lui e asu dice che andrà se potrà dormire accanto a lui ma vedendo l'esitazione di kemal lo invita a tornare a casa da solo e a stare tranquillo rassicurandolo che nessuno le farà del male e che lui la resa la persona più felice del mondo quando kemal se ne va emir esce dal suo nascondiglio e le toglie il sorriso dal volto dicendole che se kemal scoprisse che asu è in realtà la sorella del suo più grande nemico e che ha pianificato un omicidio insieme a suo zio a chi la lascerebbe prima ancora di fidanzarsi così la ricatta dicendole che se gli darà tutti i filmati in suo possesso non la ucciderà e la lascerà vivere felicemente con kemal terminano così queste anticipazioni io sono desi e se volete vi invito a iscrivervi al mio canale per non perdervi i prossimi video un abbraccio e ci sentiamo nei commenti con i vostri pareri sulla puntata grazie a tutti